O mansuetudine della divina pietà, o pazienza della paterna benignità, o profondo e inscrutabile mistero dell'eterna volontà, tu, o Padre, hai visto l'unigenito, l'eguale a te, essere legato ad una colonna come un malfattore ed essere straziato con i flagelli come un omicida. Come hai potuto sopportare tutto ciò? Ti ringraziamo, Padre Santo, perché siamo stati liberati dalle catene del peccato e dal potere del maligno con la catena e i flagelli del tuo figlio di letto. A te la gloria nei secoli eterni. Amen. A te la gloria nei secoli eterni.